Buongiorno, presentiamo il GPS E-TREX Venture HC della Garmin in vendita sul sito www.timesport24.it. È un GPS palmare cartografico con lo schermo a colori. È principalmente un GPS da trekking, quindi viene utilizzato nell'escursionismo, ma anche negli sport outdoor come per esempio la mountain bike. È adatto a chi si muove abitualmente nella stessa zona, quindi come una guida turistica o chi fa battute di caccia di un determinato animale. È già dotato all'interno di una mappa precaricata, ma è compatibile con tutte le cartografie Garmin che possono essere scaricate tramite il collegamento al PC. La confezione contiene un E-TREX Venture HC, il cavo collegamento USB, un CD Trip Waypoint Manager che consente di archiviare i vostri percorsi nel computer e di scaricare dal web quelli nuovi. Un manuale utente, una guida di avvio rapido, e infine un lacciolo da collo. Ricordiamo che in vendita sul sito www.timesport24.it